Acquedotto Pugliese diventa sempre più internazionale con l'accordo sottoscritto con Unidroa, obiettivo del memorandum d'intesa a promuovere la ricerca e la realizzazione di progetti congiunti in altri paesi del mondo, relativi in particolare ai servizi idrici. Noi come Acquipi intendiamo allargare la nostra sfera di influenza con attività che andremo a fare in giro per il mondo. È chiaro che se andiamo in giro per il mondo dobbiamo avere un minimo di assistenza che ci garantisca di fare cose corrette e poi che sul piano legale nei vari paesi abbiano la giusta legalità. Quindi con loro riusciamo a fare entrambe le cose e quindi avere la copertura che ci serve sul piano legale ovunque nel mondo. Ecco perché abbiamo scelto Unidroa come referenti per poter fare una convenzione con loro e andare insieme in giro per il mondo. Ogni volta che siamo andati all'estero ho verificato che noi siamo più conosciuti all'estero che noi in Italia. Tutti guardano la realizzazione che Acquipi ha fatto in Puglia, in particolare in una regione particolarmente asciutta, senza acqua e che ha cambiato tutte le prospettive di questa regione con interesse e un pizzico di invidia. Quindi vorrebbero le nostre competenze, vorrebbero questo trasferimento e ci chiedono di andare. Tre progetti, un cantiere idrico in America Latina, la creazione di un pozzo che garantisca l'accesso ad acqua potabile nelle cinque macro regioni africane. Un impianto di depurazione in Asia settentrionale. Tutti i progetti che richiedono però l'applicazione di specifiche norme che rispettino l'ordinamento giuridico del paese in cui si opera. Gli obiettivi sono quelli di aiutare l'avvicinamento in realtà delle culture e questo è l'argomento generale. Gli obiettivi intermedi sono di fare moltissimi progetti insieme perché questa cosa dell'avvicinamento sia concreta. Noi ci occupiamo di diritto, quindi quello di cui noi parliamo sono leggi, strumenti contrattuali, quindi questi sono i nostri progetti. Ma l'idea è appunto quello di avvicinare le due sponde del mare per fare cose insieme, per una cooperazione istituzionale vera. Ecco.